Trasformare l'Oltrepo da luogo a destinazione turistica, una differenza solo in apparenza sottile che è alla base del nuovo pacchetto di interventi da 2,5 milioni di euro da parte di Regione Lombardia, destinato a nove borghi in cui si produce il Salame di Varsi, innalzato a simbolo dell'identità di questi territori. Il fil rouge del programma, spiega la comunità montana dell'Oltrepo, è quello di costruire un'offerta turistica basata su percorsi esperienziali fra monumenti, cultura, natura e gusto. Oltre ad azioni di promozione con eventi e degustazioni da parte di Ascom, Consorzio del Salame di Varsi e Comunità Montana, sono previsti interventi infrastrutturali. A Romagnese, per esempio, è stata finanziata la riqualificazione del Ponte del Gabbione, che conduce al borgo. A Varsi, quella della piazza Leveratto Mangini, con la creazione di un punto di accoglienza. A Colli Verdi sarà invece realizzata un'area attrezzata, mentre per Val di Nizza è prevista la riqualificazione dell'area attigua al castello di Oramala. Altri lavori in programma riguardano poi Rocca Susella, con la sistemazione dell'area della Pieve Romanica di San Zaccaria, la viabilità di collegamento alla Greenway fra Ponte Nizza e Cecima, la ristrutturazione di un immobile a Borgoratto Morborolo e la creazione di un'area di sosta nel territorio di Montesegale, in valle Ardivestra.